Ha urtato un ciclista con lo specchietto e non si è fermato a prestare soccorso. Denunciato dai carabinieri di Stresa che in meno di due ore hanno risolto il caso, lo stresiano responsabile dell'incidente è trovato poi in una carrozzeria di Domodossola mentre si stava facendo cambiare lo specchietto. È accaduto alle 9.30 di questa mattina lungo la statale 33 del Sempione tra Stresa e Belgirate. L'auto, una Fiat 500L, ha urtato il ciclista con lo specchietto destro. L'uomo, 66 anni, di lese, è caduto a terra. Il gruppo di amici che si trovavano con lui ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i militari del comandante James Lui che hanno subito avviato le indagini. I ciclisti non erano riusciti a leggere il numero di targa, ma hanno indicato modello e descrizione dell'auto. Confrontando le immagini delle telecamere che si trovano lungo la strada, i carabinieri hanno visto un'auto di quel modello che aveva perso uno specchietto. Dalla targa sono risaliti al proprietario, rintracciato poco dopo. Dovrà rispondere di lesioni colpose, fuga da luogo di incidente e omissione di soccorso. In fase di accertamento alcol test e drug test, il ciclista ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni, ma per precauzione è stato ricoverato in osservazione all'ospedale di Borgo Manero.